C'è un'altra volta che ho visto da tutti quanti, quando ti trovo nella tua festa normale, e quindi volevo dire, la prima volta che ti conosciva, se non è la prima volta che mai ti trovi questa meravigliosa regione? No, praticamente io sono, ti ho detto sempre che sono Bari brasiliana, perché sono l'abito nella città di Bari, e sono una grandissima appassionata della Puglia, vado sempre in giro a fare vedere questa meraviglia, infatti l'estate ho fatto qualche video che d'inverno io farò vedere poi nel mio canale, e sono molto contenta di stare qua a presigliare questo grandissimo calciatore di Gaitano Shirea, e niente, un bacio a tutti, ciao ragazzi! Volevo appunto ricordare che oggi ricorre l'anniversario della morte di Gaitano Shirea, abbiamo qui invece, nel parco italico, anzi, nel parco proprio di casa, la giuriamo in casa, con Anna Maria Rizzo, lo ricordo il cognome perché si sapeva dire, però quello che io non lo dicevo, però allora, tu hai la prima volta che canti, canti no, perché solo qui sei una cantante, a cappella l'inno nazionale, una manifestazione così importante che non c'è? Ho cantato di tutto, devo dire, questa sera mi sono emozionata, anche perché l'inno nazionale non l'avevo ancora fatto, quindi si può dire che è la prima volta per me. Infatti io sono molto emozionata di cantare un italiano, sono un italiano. È vero, abbiamo fatto il collugio, quello che non si è mai visto in italiano, c'è bellato, perfetto. Ok, grazie signore, buona serata a voi. Grazie.